opa no sans sans taratà 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 aiuto salve a tutti i corsari del web io sono il coisaro e quest'oggi come da promesso nello scorso video della survival per chi non l'ha visto siamo su un minigioco allora voglio rispiegare perché magari non tutti seguono del tutto i miei video e quindi non capiscono bene cosa sia successo nello scorso video avevo specificato il fatto che avrei ridotto a due gli episodi settimanali della survival perché non ci riuscivo più a stare con i tempi non riuscivo a smanettare sul mio mondo abbastanza per prepararmi quindi riducendo a due spero di riuscire a fare quella breve preparazione che mi serve per fare ogni volta il prossimo episodio comunque sia adesso siamo sui mini giochi io non ho ricevuto un suggerimento e riguardo quindi mi sono adattato un po a quello che facevo in passato ovvero delle bad wars adesso siamo sul server dei pixel mi ero messo così per fare l'intro ho fatto uno screenshot per sbaglio e niente signori noi vediamo se sono ancora capace di giocarci perché almeno quella volta ero bravetto ci andiamo in double per insultare i nostri compagni di squadra ci andiamo in solo per insultare solo noi stessi facciamo una sola e una double se riusciamo vediamo un po come ci stiamo con i tempi penso che faremo tipo due partite due partite a video o comunque sia anche di altri mini giochi comunque board samson che bel nome ok ci siamo vediamo se mi ricordo un po come si fa ma speriamo che non la raggiunga prima di noi perché sennò è la fine ok 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 siamo primi siamo primi ok diamanti quattro diamanti te li ho presi sotto il naso pezzente no 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 cazzo siamo morti si distrugge il letto ora merda vets non sono più bravo come un tempo non sono per niente più bravo come un tempo cazzarola stavolta ci proviamo in duo perché a quanto pare da soli siamo un po' così e BAM si no 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 eh ci ho provato ci ho provato non ci sono riuscito maledetto marrano eeeh ah 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 dai no i hacker su uomo con 6 pixel no cosa pensi di fare cosa pensi ah guarda guarda te cosa vuoi fare allora è pericoloso è mo no dai 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 no maledizione facciamo un gesto opening e dopo vi spiego cosa si è successo cosa troviamo epic wave dance gesture non so come usare oi è questo no eh ma comunque sia sono diventato scarsissimo alle bedwars poi potete anche credere che magari non lo sia mai stato però credetemi che in passato ero bravetto però adesso vediamo un po' che cosa possiamo fare sono voluto andare qua nelle arcade perché è un po' più carino credo almeno è più lungo e non è troppo pvp siamo una siamo su hide and seek e ho deciso di giocare a questo perché è simpatico poco da dire è molto molto simpatico come minigioco e magari se posso diventare questo aspetta no perché siamo degli attrezzi non ho capito che significa ma siamo degli attrezzi ci si vede benissimo cioè scusate non era molto meglio i blocchi cosa è successo perché siamo degli attrezzi invece dei blocchi non capisco è da troppo che non giochi ai minigame che cacchio hanno modificato qua intanto sembra che sembra che nessuno venga di sopra il che è positivo per ora appena saliranno sarà un po' più un problema però non stiamo nemmeno fermi cioè quello è il problema cioè che cacchio hanno fatto quelli di dei pixel ha proprio tutto suop scusa eh no non lo fare non lo fare non lo fare ah aiuto e pam ma non è nemmeno stunnato se per questo ah scappa eh alè l'ho stunnato l'ho stunnato ah scappa risonniamo sul punto di prima ah 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 siamo ritornati qui oh no eh parkour ah 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 solo chi sa fare il parkour può eguagliare la mia mestrea mi metto qua so sono nella top 3 dei migliori hider sono un mito che paura no no non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto sono fortissimo magari loro magari sono loro due eh sono sicuro paura no sans sans Aiuto Aiuto aiutatemi Ho paura Mi metto qua Ce la stiamo cavando alla grande qua Non sarò bravo in pvp Non più però sono bravo in queste cose bellissime Dai che se vinciamo così sarebbe una partita epica No 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 Via Scappa scappa Troppi Seguiamo questo Aiuto scappa No 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 Non ce la farete mai Non ce la farete mai Non mi avrete mai vivo Via No Aiuto Non ho più speranza di nascondermi No sono l'unico No No Come è fatto a prendermi Non si può usare Forse il potere speciale dei Degli seeker Maledetti Che rabbia Ok così mi diverto You are a hider This guy has props around the map To avoid getting caught by the seeker You can ride Ok si 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 Allora Ma come posso trasformare solo Ah posso trasformare solo in questi blocchi picci E ma dove mi metto così Che cattiveria Mi metto qua The seeker is on the loose Eh Cosa significa Adesso siamo Ok ci possiamo trasformare solo in blocchi piccoli Non ho capito il senso di Trasformarsi in blocchi piccoli In strumenti Invece che in blocchi Perché era molto più figo in blocchi Ti disgaisavi Molto meglio Cioè così buh Cioè non ti puoi nemmeno Bloccare C'è proprio triste Spero che non ci veda nessuno In questo angolino Comunque sia Una cosa Let's click to camouflage Ah Ho capito Ma va Non avevo capito Ah You have camouflage yourself As crafting table For ten second Ok ho capito Prende E il potere Ci sono I vari strumenti Che hanno un potere speciale E a quanto pare Lo strumento che ero io primo Ovvero un piccone Può stannare i nemici Invece I blocchi Possono disgaizzarsi Come se stessi Allora intanto Siamo rimasti in 6 Heidel Maledetti Seeker E 5 Seeker Quindi Ci vorrà un po' Ehm Ehm Ok Non sembra averci Ah Ah sono già Seeker Ok Ero abituato ad attendere Allora vediamo un po' Ehm Ehm Via Ma ma che aiuto No ragazzi No 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 Non si fa così Avetevi C'è il battito di cuore Quando sei vicino a A un Heider C'è troppo semplice così Cazzo Oh Ma cosa hanno fatto Hanno rovinato tutto E tutto rovinano E i giochi Eh Quest'ascia Questo piccone Ehm Cavolo ma si nascondono bene eh Anzi si nasconde bene L'ultimo rimasto Qua c'è l'enchanting Strumento 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 Ehm Beh Non ho più idee Si può salire ancora più in alto Se si può salire Oh Ben fatta Proviamo a vedere se riusciamo a fare una partita dai pixel 6 Ah si giusto Una cosa molto importante che dovevo dirvi all'inizio non l'ho detta Questo format lo farò con largo 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 Larga Per registrazione Ovvero io mi registrerò con calma nei giorni di tante robe di minigame E quelle saranno Cioè quindi se voi a un certo punto mi scrivete dei commenti riguardo Fai questo minigioco e dopo non vedete questo minigioco per diverse settimane O giorni O quello che è E perché io sarò L'avrò letto però avrò già registrato un botto di questi Per tenere due video a settimana Farò così Ok quindi come si gioca? Spin around in a full circle Ok Ce l'abbiamo fatta Adesso break a log block Ehm Lo sto rompendo Ah Look at the sky Ehm Fatto Che gioco Lo gioco un po' così Grow a tree Ehm Get in bed Eh Ah Ce l'ho fatta Zzzzz Che si Che simpaticoni Ehm Climb the middle No Ho sbagliato No Non avevo capito E parkour No No Got Give grandma flower Dov'è grandma No Grandma Toh Ok Che gioco sto Ehm Fare la spaganda Dai un sword No Ok Che cosa è Ah Ah Paura 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 Che gioco violento è Aia La canzoncina è meravigliosa Dai Che siamo gli unici Sì Build a iron goal Ehm Ehm No No amico No Ah Fatto Ehm Ah Or block Ah look Guardiamo Ehm Stand on cobble Ehm Cobblestone Ce l'abbiamo fatta Era Stand Complet Run Eh No Aiuto Paura Kill the chicken Chicken Sì Che fortuna No Che tristezza Che cazzo è Era 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 un Robo mistico Cacchio Signori Il video finisce qua Spero che questi mini giochi Vi sono piaciuti Mi dispiace di essere peggiorato Così tanto nelle bad wars Veramente Mi ricordo veramente Di essere più bravo Se volete andare Negli episodi passati Proprio anni Due anni fa Tipo Ehm Vedrete sicuramente Di spettacoli migliori Di quello che ho fatto oggi Ehm Quindi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Vi lascio in descrizione Il link per la mia pagina Instagram Condividete il video Per supportare il mio canale E noi come al solito Ci vediamo Al prossimo video Arrivederci Wee